E salve a tutti amici, sono sempre Iogold e benvenuti in questo nuovo, primo, episodio di Vain Un momento, perché c'è una trasmissione di emergenza e non riesco a parlare se la sento Fa niente, non posso abbassarla Dunque, che cos'è Vain? Vain è un gioco di sopravvivenza zombie E qua, fin qua, nulla di nuovo insomma, ce n'è già tantissimi Il fatto è che è estremamente dettagliato e immersivo Vain è un progetto di due persone All'inizio, c'è proprio un piccolo disclaimer che dice che è un progetto di passione Fatto da, appunto, due sviluppatori Però già allo stato attuale, pur essendo praticamente a livello di un'alpha Tant'è che questa qua è una demo È estremamente dettagliato e ci sono delle meccaniche molto interessanti Chiaramente è ancora un po' scarno e non penso che ci siano i presupposti per fare una serie Tra virgolette Ma possiamo assolutamente esplorarcelo per bene e soprattutto tenerlo d'occhio Perché andando avanti col tempo, secondo me, questo gioco vedrà un grandissimo miglioramento E molto velocemente Soprattutto di recente ha avuto molta esposizione anche su YouTube E gli sviluppatori hanno visto un picco enorme di affluenza di nuovi giocatori Quindi noi saltiamo sul treno dell'hype E andiamo a vedere un po' il gioco Quindi partiamo con una nuova partita Non sarà multiplayer Ci saranno i danni per le basi dei giocatori E le strutture costruite decadono Poi avanzate Non mettiamo il permadat, nemmeno l'Iron Man E gli zombie sono normali Tutto sommato Iniziamo Oh, meno male che non sento più quel messaggio audio Mi espongo anche un po' nel dirvi qualcosa di più Secondo me ci sono i presupposti perché questo gioco sia il nuovo successore Anche se in realtà sono in due categorie differenti Secondo me perché Project Zomboid Che appunto è il competitor Mettiamola così È tutt'altro gioco Con tutt'altro sviluppo Con tutt'altre premesse E questo è sviluppato in Unreal Engine Se non sbaglio Ed è in prima persona Però Ovviamente essendo giochi di sopravvivenza Zombie Post-apocalittici Hanno in comune molte cose Però Vain Anche se Nello stato attuale Estremamente Acerbo Ancora come prodotto Già mostra alcune meccaniche Che sono estremamente promettenti E Ve ne rendete conto subito Eccoci qua Con la creazione del personaggio Andominiamo Francis Silva Mi piace Vai andiamo Primo colpo Allora La personalizzazione È Ma abbastanza Dettagliata Più o meno Cioè Si vede che è ancora Un po' acerbo Però Però Allora Vediamo un po' Body type Si lo vogliamo Mascolino Mettiamola così Colore degli occhi Azzurro Magari no Ok Si comunque L'audio non si è abbassato Per niente Quindi dopo lo devo abbassare Oh mio dio Abbiamo Tantissimi dettagli Che possiamo modificare Io La butto sul Randomize Oh Sono fortunatissimo Oggi Con il Randomize Assurdo Dai Ci sta Mi piace E corpo Facciamo un po' Pi skinny E Diciamo un 40% E Fresco Come una rosa Quindi Niente vecchiaia Ok E Basta Andiamo avanti Ora Le statistiche Cosa vogliamo simulare Vediamo un po' Ce n'è tantissime Allora Io non ho giocato molto Il gioco ancora Ce l'ho visto per Tipo massimo Un'oretta Due E Da quello che ho visto È molto interessante Però non è che L'ho conosciuto molto Nel dettaglio Quindi Lo impareremo Un po' insieme Hot wiring Che abbiamo sempre visto Essere utilissimo Scassinare Insomma Stiamo facendo Un'altra volta Un ladro E forza Forza Occupazione Artigian Wow Sembrano esserci Tantissime statistiche Demolition No Direi di no Dottore no Electrician no Oddio Potrebbe andare bene In realtà Ranger del parco In realtà Andiamo con il ladro Cioè davvero Teniamo alte Le Le nostre tradizioni Queste qua sono Delle modifiche Di gameplay Suppongo Si può fare Diabetico Il personaggio Intollerante All'attosio Figata Interessante Ma No Grazie Oh mio dio Sbuffare Vegano Allergico Allergico Alla frutta Guscio Assurdo No Alle arachidi Scusate Fa niente Fa niente Però sono Interessante Queste modifiche Dove vogliamo Spawnare A Redford Oppure A Sarnak Andiamo A Sarnak Che sembra Quella un po' Più Organizzata Mentre Redford È una Una piccola Cittadina Rurale Iniziamo Ok Ok Dove siamo Dove siamo C'è dell'erba Ah ok What Mi ha spawnata Attorno alla camera Cornice Da parete Dove siamo Nel bosco Che cosa Vediamo un po' Cosa possiamo trovare E soprattutto Cosa abbiamo Rivista Platinum Furtivamente Ok Vai Leggi Abbiamo fatto Un livello Di furtività Ok Poi abbiamo 350 dollari Un kit di primo soccorso Che ci dà Delle insulina E degli antidolorifici Di base Carino Guardate com'è Dettagliato Poi abbiamo Questo Questo E i jeans Abbiamo una Abbiamo una Una crowbar Che sarebbe Un piede di puerco Spacchetto Ah ok Mi serve qualcosa Per aprire questi pacchi Poi un cellulare E basta Va bene Vediamo un po' Cosa riusciamo a trovare Agoda cucito Vai Utile nel crafting Un altro pacchetto E un altro pacchetto Vediamo se poi riusciamo a trovare Qualcosa con cui spacchettare Baseball bat Subito Sempre lo stesso Va bene Andiamo dall'altra parte C'è elettricità Si Non so se ci sono zombie Quindi nel dubbio Vado cauto Mi comporto un po' come Come se fossi su Zomboid Perché bene o male È così che mi comporterei Se ci fosse un apocalisse Zombie Bevi Ma dove vedo le mie Statistiche Medico Qua Affamato Sazio No Stats No Character Qua No Penso sia in medico A sto punto Sì Modificatori Bottiglia di shampoo Magari Ecco è questa qua La meccanica interessante Lo smell Si possono odorare I liquidi Uh fasciature Bene 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 Ok c'è una strada La temperatura mi dice Che è piacevole E Caldo Ah sì Questa è una figata Si possono abbassare Le tapparelle A livelli diversi Suppongo per evitare Di essere visti Uh Uno zaino Vai Ci aumenta di un po' La capacità di trasporto Uh Bene Bene Che colpi prende Questa qua Punto 45 CP Bene Dov'è la pistola Vai Ricarica Benissimo Ok Quindi tiene 8 colpi Perfetto Cerchiamo ancora qualcosa Sì ovviamente Sì ovviamente Fortuna Assurda Oh bene Qualcosa che ci possa tenere Acqua How to create Nail Read Oh Ho imparato una nuova cosa Una nuova ricetta Yes Beh allora Questa la Prendo Anche se fa caldo Fa niente Perché non si sa mai Magari poi fa freddo E dobbiamo un attimo Coprirci di più Serratura standard No Ok niente Ho provato a farla a pezzi Ma non mi ha dato nulla Ancora cucito Un disco Ok Allora l'hanno tradotto in italiano Ma è tipo traduzione con Google Translate Quindi non tutto è tradotto correttamente Cibo Bene Mangia le noci E mangia anche questo Abbiamo mangiato anche del mais Se siamo sazi Perfetto Fare clic su barra dei Vabbè prendi tutto Se abbiamo del cibo Abbiamo fatto un livello di depredare Bene Pane Brodo Bene bene Abbiamo del cibo Altro cibo Fantastico Abbiamo trovato una casa Messa benissimo Marmellata di arance Oh ma quanto cibo ci abbiamo Cibo per cane o carino Detergente per grasso No Glass cleaner nemmeno Allora Fill container Questa qua Grazie Perfetto Abbiamo riempito la bottiglia D'acqua Prendo anche questa Batterie Un altro livello di depredare Fantastico Ma non ci credo Mi ho trovato un'altra pistola Vai ricarica Questa qua è una Flock 17 Chiaramente Ah è la Bolt 1911 Per il posto della colt C'è un cane No dove è il doggo Ah ok Va bene Carina sta casa comunque Come frega me di uscire E andare a A rischiare la vita Sto bene qua Calcolatrice Colonna sonora Così la sentiamo anche un attimo Ah qua c'è il magazzino Garage Rullo Fascio di fili Cacciavite Eccolo qua Serve Suppongo per il crafting Quindi lo prendo Allora so che le cose Si possono distruggere E ci danno Degli oggetti Per appunto il crafting Però ci serve altro Effettivamente Per Per poterle distruggere Tipo degli Degli attrezzi Tipo queste qua Le locking pliers Eliche del ventilatore Ok Pinze maschio femmina Eccolo qua Adesso possiamo aprire Forse le parcels I pacchetti Spacchetta Ho trovato Una forchetta Blocco note E Una tavola Da scacchi Martello Bene Ah smantella Questa qua 100.000 Blocco note Che abbiamo Oh ma ci si può scrivere sopra Ah ok Boh Ma ecco Così Semplicemente Non mi serve a nulla Per ora Locco note Smantella E smantella Perfetto C'è altro da luttare Yes Direi di no Boh Sembra che non ci sia nient'altro Oh no La scatola di fusibile Ho staccato la corrente Ok Ok usciamo un attimo Andiamo com'è la situazione Fuori Ok Si può anche parare Vedo La situazione è tranquilla Non vedo zombie E non ne sento Soprattutto Non ho una mappa Provato ad aprire la mappa Ma non l'ho Non l'ho trovata Ah no C'è uno zombie Ma io Oh oh No Non sparare Gold Non sparare Scusa Ma Aia Mi ha graffiato Ma merda Ha rotto tutto Chi è qua Si ho dei graffi Ok Quanto pare Gli zombie c'erano E come Sono stato graffiato Fatemi entrare un attimo Va Ha spaccato i vetri Avete capito E dove erano questi Questi zombie Medico Oh Via qua Fuori Ma a posto Allora i graffi Mi sono passati Parrebbe Fatemi vedere Medico Si Ho un leggero dolore Ah e mi dice anche Cosa dovrei fare Però mi è passato tutto Praticamente Suppongo che quella In alto a sinistra Sia la barra della vita Per virgolette Si Particolarmente utile Yes Bene Però non ho trovato Una mappa E soprattutto Che ore sono Remove battery Insert battery Vai Eccolo qua Sono le 7 e 58 Non so se prima Me lo faceva vedere Open map Grande Quindi noi siamo Qua E infatti Effettivamente si vede Non ci sono Non ci sono particolari Marker Su mappa Mi pare di capire Che qua ci sia Qualcosa di utile Così come qua Beh Ehm Quella ragione E' una chiesa Iniziamo magari Ad andare nella casa Qua a fianco Sono le 8 di sera Oh Anche una torcia Beh non c'è bisogno Perché c'è ancora luce Fuck Sono preso un colpo Mannaggia a te Dai buono Ma c'è un dog Oh cane Ciao cane No è una volpe Che cazzo Vabbè Ok 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 Magari non mangiare questo Mangia questo Altro livello Di depredare Mi piace Madonna che rumore Oh Cosa abbiamo qua Bene bene Antibiotici Antidepressivi Vai Impara come fare le viti E sono le 9.45 Adesso andiamo a dormire Tempo di mettere in sicurezza qua Non posso accendere la lampada Ma vediamo se posso dormire Quante ore voglio dormire Sette Boh Conferma Ah Istantanea Come cosa Perché non vedo bene Che succede Affamato No Sono leggermente Sono leggermente Malato Mannaggia a me Mangia un bagel Tra l'altro Guardate Ci dice anche La temperatura E se sono freschi O se stanno andando a male Sono ancora affamato Mangia Mangia Letargico Ah Perché ho Mannaggia Ho mangiato le cose sbagliate Sono malato Ma vi pare Boh Vabbè Ma riempiamo di nuovo Insomma abbiamo controllato qua E va bene Non c'è Non c'è niente Se è ancora un po' presto Forse Mi pare di capire Che ci sia vinto Sì allora Sto male ma Cosa posso fare No aspettate Mi pare di aver capito Che potevo utilizzare La La baguette come arma Scusate Ma io questa qua La La indosso Perché Mi sa che Mi sa che fa freddo Altro che Non so se come appunto Nel suo fratellino Zomboid Vada via la luce A un certo punto Penso di sì Io c'ho paura Di questo sick Ehm Meglio se me ne sto dentro Cioè mi sono ammalato Che sfiga Questa casa qua Ha due piani E sembra anche barricata Sopra Potrebbe essere un buon Buon punto Dove stare Ok Si sta bene qua Non so Non bisognerebbe Prendere dei Degli Degli antibiotici Così a caso Però Speriamo bene Se no ci schiatto Probabilmente Un barattolo di biscotti Con dentro Dei biscotti Ma guardate il modello di sto biscotto Ma sono bellissimi Mangia Letargico Maia Non c'hanno il lavandino In sta casa Vabbè Uh C'è un caminetto qua Posso accenderlo? No Che peccato Grandissimo peccato Immaginate Cioè sarebbe stata La base perfetta No non è vero Ho un pacchetto Di sigarette Vai Prendi tutto Bene Mi prego Ditemi che c'è anche Ah Pensavo ci fosse un Semi interrato E wow Un'altra Pistola Ancora Pinze combinate Ok Un termometro Bene Fatemi prendere subito Il termometro Che lo Metto qua Nello slot utility Check temperature 66 gradi Fahrenheit Che non so Quanto siano in Celsius Ma se facessi Destroy Ah ma dato Della plastica Broken PC monitor Ah è voltage cable Ma che figata Praticamente Tu smantelli E ti dà qualcosa Indietro Che puoi riutilizzare Nel crafting Potrei effettivamente Provare a fare Tipo base qua E vedere un attimo Come funziona Il Il crafting Why not Wow Quanti Quanti caricatori Con Premendo shift Li Passa tutti Magari le sigarette no Ok Padella in ghisa La mettiamo qua Che ci serve Per cucinare E Non dovrei avere Altro Esatto Poi ho tantissime cose Che mi servono Per Il crafting Purtroppo qua Non abbiamo Un Magazzino O un garage Ma fa niente Un fungo Speravo di poterlo Prendere Allora 34 Fahrenheit So che Tipo Poco sopra Lo Zero Vai Iniziamo a smantellare Voglio fare qua La Oh Che figata Voglio fare qua La zona Di Di crafting Così Quindi Ho fatto un po' Di spazio qua Vediamo cosa Mi dà il crafting Il problema È come Si fa il crafting A Forse B Si Non c'è copertura Dell'armadio di servizio Dove ti trovi Questi sono usati Per mantenere strutture Senza un armadio Le strutture Costruite Decadranno E Cos'è che devo fare Un armadio di servizio Ah Armadietto di servizio Ok Come funziona Manage Risorse disponibili Merda Infetto Che senso Infetto No Sono stato Infettato Ma da Ma seriamente E per cosa Sarà stato il Oh mio dio No Sarà stato il Graffio Vediamo se posso Settare lo spawn Oppure Magari Prima costruisco Qualcosa Storage Eccolo qua Large crate Servono assi Di legno Ok Così ci butto Tutto dentro E poi Eventualmente Muoio Ok Però è interessante Questa cosa qua Send to utility Cabinets Cioè L'armadio di servizio Perché significa Che poi ti fa Tipo da Da stoccaggio Centralizzato Molto utile Molto molto utile Mentre tra poco Muoio Probabilmente Infatti Fatemi andare fuori A morire Magari Ah no Dovevo settare lo spawn Bonnie Un'ora Vai Perfetto Sentato lo spawn Adesso vado a morire fuori Così poi Non mi devo ammazzare Da solo Sì ok Ora Ok Va bene Eccomi qua Come nuovo Meno male Che abbiamo fatto Sta cosa qua Letteralmente Qua fuori Vedi questo Oh fuck Da Shit 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 Fuck Oh Gesù Non mi hai preso Vero Madonna Non c'è un vento C'è una tempesta Ok Possiamo continuare Con l'obiettivo Di prima No Eccolo qua Cellulare Vabbè Vediamo un po' Come funziona Allora Il resto Della costruzione Quindi storage Abbiamo fatto Wooden shelf Vabbè ma questo Non mi serve Altro stoccaggio Utilities Small planter Quindi si può coltivare Storage Ok Stations Banco da lavoro Standard Facciamolo E lo mettiamo Qua Usa Uuuu Interessante Tu metti Gli ingredienti L'attrezzo E te la fa Ma non ci credo Ho fatto Una mazza Da baseball Chiodata Bellissimo Bellissimo Vediamo Cos'altro Possiamo fare Un mucchio Degna Utile Per accendere Il fuoco Ago e filo Amo da pesca Arco Bene Borraccia In pelle E si possono Anche Esplorare Le ricette Improvvisando Ok Ok Banco da lavoro Avanzato Serve già Un po' più di roba Quindi bisogna Effettivamente Fare a pezzi Le cose Ah il crafting Sembra essere Abbastanza Accurato Cioè nel senso È fatto a stadi Una pull up bar Interessante Vediamo le fortificazioni Ci sono di Tre livelli Legno Legno Riciclato E calcare Quindi penso sia Sì mattoni Per esempio Mattoni Reinforced Wooden plank Asta di lane Vabbè Vabbè Mica poco Mica poco Ora capisco Perché bisognerebbe Fare a pezzi Tutta sta roba Ho capito E quindi sì Adesso Vi ripeto Ha senso Effettivamente Andare a Luttare E cercare Delle attrezzature Un po' più complesse Che è quello Che faremo Ciao a me Dai fermo Lì immediatamente Oh Oh Due al petto Uno alla testa Scusi Lei cosa sta facendo Vediamo No scu No Ricarica Scusi Scusa Eh grazie Maffanculo No Di nuovo Di nuovo Sono stato Graffiato Mannaggia Dov'è Non ho niente Non è vero Non è vero No Si infetta Così Ci sono già Passato Una volta Basta Dov'è 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 Vai Dov'è Disinfetta Cleaning wipes Fasciatura Elastica Bene Infetto Sterilizzato E bendato Bene Utilizza pure Gli antidolorifici Di base Vabbè No dai C'ho poco Poco dolore Che bello Però i Dettagli Le iconcine Bello Interessante Mangia Mangia il pane Che hai preso Dallo zombie Non ti preoccupi Oh Grimaldelli Yum Di provare ad andare Più avanti E sulla destra Ma mi sa che quella lì È la È la chiesa Non ho trovato ancora Un veicolo Se è per questo Buongiorno Ha bisogno? A pezzo De Il terzo Era gratuito Mangia il pane Mori Sì Allora Questa qua Sembra Essere La chiesa Là giù in fondo Vedo Sono dei veicoli Possibile che siano Dei veicoli Madonna L'ho lanciato Nella stratosfera Aperto Oh mio dio Posso utilizzare Lo scuolabus Hotwire Vai C'è anche Carburante Mi sono fatto male Perché ho preso La scossa Di nuovo Danneggiato il veicolo Ma non fa niente Eccolo qua Oh mio dio Uno scuolabus Che figata Va bene Bene Abbiamo anche un veicolo Adesso C'è quello zombie Che mi sta guardando Ancora Provo a fare il giro Dall'altra parte Ah è barricata Qua Proviamo ad entrare Da qua Uh quanti veicoli Scusa Vieni qua Una radio Non lo devi più fare Va bene Dovrò aprire Aperta Uh ma è barricato qua Vai a pezzi Tutto Ah era tipo È stato utilizzato Come rifugio Scusa Eh grazie Vuoi venire qua Magari Anche Che succede Warn Bible Ah il messaggio C'è qualcuno qua dietro Oh mio dio Era dentro Che figata Brocca d'acqua grande Provviste mediche Dai C'è un computer Funzionante Ma che bello Oh risorse Mica male Vai Prendi tutto Anche qua Prendi tutto Ah Ok Non posso prendere Quello Ma fa niente C'è elettricità Sembrerebbe di no Beh insomma Questa qua È stata utilizzata Come rifugio Ok Ok Sono già Capacità massima Non so Vedo se posso Magari riempire Il mezzo Nulla comunque Mi serve un altro mezzo Adesso andiamo a prendere Lo scuolabus Non va bene E non mi fa Correre Suppongo per Per il fatto Che sono Stracarico Perché io sto provando A correre Ma non ce la fa Vediamo questo furgone Qua Dai Nulla Bene Oh C'è la C'è la La chiave Bene Jackpot ragazzi Jackpot Carichiamo tutto Adesso Carichiamo tutto Ah beh Mica poco Mica poco Bene Ho preso un po' Di robetta Ma soprattutto Mi prendo queste due Hit Sono stressato Birra Vai Ah sono ubriaco Ok Lo vedo Sulla vista Che è leggermente Sgranata Ora Va bene Ma io Io mi considero Soddisfatto In realtà Veicolo funzionante Ovviamente se non tolgo Il freno a mano Sarà difficile partire Si torna alla base Si scarica tutto Ma che E da quando Gli zombie Sono più duri Scusi Non ho capito Ecco qua E la spesa L'abbiamo fatta Ma vi dirò Che in realtà Sia come cibo Che Risorse Veicolo Sono messo Tutto sommato Bene Ma va Ci sarebbe Da esplorare Ancora un po' Il crap Ho sbagliato Casa Vero Si ho sbagliato Casa Sarebbe bello Capire come si traduce L'aumento Delle abilità Sul Lato stesso Dell'azione Tipo È aumentata L'abilità Di guida Cosa significa Vado più veloce Guido Guido meglio Più trazione E cose del genere Ricarica Pulisco un attimo La zona E torniamo qua Nella nostra Nuova casa Un po' di cose Le abbiamo fatte Non vi dico che abbiamo esplorato Totalmente Il gioco Però Secondo me Qualcosina si inizia a capire Ebbene gente Secondo me ci siamo Questo qua è Vain Almeno una prima impressione Fatemi sapere qua sotto Nei commenti voi Cosa ne pensate Di questo gioco E di questo video Secondo me Ci sono delle ottime premesse Per un bel gioco Sicuramente Lo seguirò Lo sviluppo Assolutamente Perché C'è tanto Che può essere integrato E migliorato Ed effettivamente È molto interessante Come gioco Poi lo sapete Il genere Di per sé Mi piace tantissimo Mi raccomando Fatemi sapere qua sotto Nei commenti Voi cosa ne pensate Io vi ringrazio Come al solito Tutti tantissimo Per avermi seguito Sono Gold E noi ci vediamo Con i prossimi video Bye bye Svegli costere qua su